Si sono svolti nella chiesa di Sant'Agostino a Prato i funerali di Giacomo di Napoli, il giovane pilota pratese, residente da tempo ad Agliana dove era conosciuto ed amato, che lunedì 11 luglio è morto ad appena 20 anni, precipitando con il suo aliante durante un volo di allenamento nei cieli umbri, nei pressi dell'altopiano dell'Alfina da cui era appena decollato. Amici, parenti e tanti sportivi hanno dato il loro ultimo saluto all'amato pilota e si sono stretti intorno ai genitori Cristina Monzali e Gennaro di Napoli, colonnello dell'aeronautica militare. Era presente il sindaco di Agliana Luca Benesperi, compagni della società COGIS di nuoto di Montale dove il giovane si allenava, i membri dell'associazione sportiva di volo I Pinguini e una rappresentanza di militari dell'aeronautica. Intanto la magistratura di Terni e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo stanno conducendo due indagini parallele per capire la dinamica della tragedia. Sabato 16 luglio è stata anche eseguita l'autopsia sul corpo del ragazzo, di cui al momento non è stato ancora comunicato l'esito.